Il settore turistico ha bisogno di tanti e tanti aiuti e noi come regione faremo la nostra parte. Serve questo bonus vacanze, bonus famiglie o bonus cittadini che sia, quando si potrà ripartire, risorse cash date ai cittadini italiani o alle famiglie che possano spenderli solo nelle strutture ricettive di questa regione e solo di questo paese. Sì, divento sovranista io in questo caso perché bisognerà far ripartire, anzi noi dovremmo fare un appello che appena si potrà ripartire venite tutti a visitare l'Italia, a visitare l'Emilia Romagna che è fatta di bellezza e di servizi e una cultura dell'ospitalità, questo in particolare a noi straordinario.